Figliolo mio, hanno deciso che sei un uomo morto. Che intendete dire? No, no! Sono degli idioti, possono essere così sicuri di sempre. Se il tuo testino è scritto, come finisce la tua segurezza? Mi fai così. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info